Storia, arte, cultura, gastronomia, tutti gli appuntamenti di Weekend da Scoprire. Venerdì 18 ottobre a Castrocello alle 18 presso l'Agriturismo Che le Terre incontro con l'autore Fernando Riccardi per la presentazione del libro Clicce della Grange, con la partecipazione straordinaria di Benedetto Vecchio, musicista degli MBL. Sabato 19 ottobre a Sant'Ambrogio sul Garigliano dalle 19.30 nel Centro Storico si snoderà il percorso enogastronomico Dolce Vinnovo, giunto all'undicesima edizione. Ad Aquino sabato e domenica la Proloco organizza la manifestazione culturale Il Ricordo di 10 giugno giovenale, con la quindicesima edizione del premio giovenale conferito a Aldo Cazzullo. sabato alle 16.30 presso la Chiesa della Madonna della Libera e il convegno dentro la satira di giovenale domenica alle 16.30 presso la Sala Consigliare. A Ripi sabato alle 19 e domenica alle 12 nel Centro Storico si terrà la seconda edizione Le Cantine di Ripi, percorso enogastronomico con oltre 35 cantine, alla scoperta di antichi sapori e prodotti locali, piatti tipici della tradizione ciociara e vini naturali della Cantina Cavalier d'Amore, con musica popolare, DJ set e servizio navetta con ampio parcheggio. Domenica 20 ottobre, Aquino dalle 8 alle 13.30 al mercato Campagna Amica della Col di Retti fa il suo esordio al mercato di Aquino in piazza Municipio e via Pietronenni con esposizione e degustazione e vendita di prodotti agroalimentari tipici ciociari a chilometro zero. A Fonte Chiari alle 15 in piazza Marconi appuntamento con la sedicesima edizione della Festa dell'autunno e Maxi Torta, prodotti tipici, corteo storico, scherma storica e intrattenimento. Per inviare le vostre segnalazioni chiamate al numero 0776 72 8035 oppure scriveteci a weekendchiocciolateleuniverso.it